ah il mio amico spiro la maga ha sorpreso questo celaccio mentre rubava dei missili dalla sua fabbrica di fuochi d'artificio ma io potrei affidartelo sempre che paghi le sue multe che stupido voglio dire è la cosa migliore che tu spiro abbia mai fatto fino ad ora e via dicendo mi sono spiegato no sergente bird 9006 8 agli ordini credo che dovrai chiedere al tuo ufficiale capo ehi cosa sono quelle cose equipaggiamento militare all'avanguardia lancia missili di bx9 modernissimi allora perché non li hai usati per scappare ehm perché perché ho poche munizioni e volevo conservarle per questo ehi credevo che da dove vieni tu i draghi si fossero estinti tutti da più di mille anni no beh le voci sulla nostra estinzione sono leggermente esagerate volevamo solo stare un po' in pace beh se la pace è quello che cercate dovete star lontani dal mio mondo per un po' sono settimane che combatto contro i rinoc ormai a presto devo addestrare i colibri devono essere al massimo della loro condizione fisica se vogliono sfidare la maga signore questa è la situazione ieri alle ore 18.45 i rinoc ci hanno invaso abbiamo difeso come meglio potevamo signore ma senza la sua guida non siamo stati in grado di opporre una resistenza efficace entro le ore 19.00 ma senza la sua guida non è vero signore ho catturato le razioni nemiche non andranno lontani con la pancia vuota signore i rinoc hanno bloccato l'uscita di questa caverna con una porta di sicurezza e non credo che lei possa batterla consiglio di prendere i pesi e portarli agli interruttori di sicurezza sensibili alla pressione passi 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.